Inizia la carriera con autoproduzioni in Super 8, Paure in realtà, 1972, e Passaggi, 1977, con quest'ultimo attira l'attenzione della critica e nel 1979 partecipa agli I Premio per Autori Cinematografici Italiani, Angelo Rizzoli, vincendo il premio Cinema Giovane. Insieme con i film morte di un operatore di Fagliero Rosati e volontari per destinazione ignota di Alberto Negrin, nel 1981 il suo primo film in 35 mm Difendimi dalla notte partecipa al festival di Anneci, Nizza e San Sebastian, dopo l'incontro con Bruno Mattei ne diventa uno stretto collaboratore e si dedica ai generi horror. Ed azione, con Mattei co-dirige film come Virus, Red Notte di Terrore e Zombie 3, dove subentrano a Lucio Fulci. Da solo dirige horror sempre a basso budget come La Casa 5. Bay on Darkness, After Death, Oltre la Morte, Non Aprite quella Porta 3, Night Killer, e Troll 2, 1989, che sull'internet movie e database figura tra i peggiori cento film di sempre, secondo le votazioni degli utenti. Nei decenni successivi il film acquista uno status di culto, culminando nell'happening noto come Neil Bogg Invasion. Fragasso si specializza in Mock Booster, termine con il quale si indicano quei film, spesso a basso costo, che vengono lanciati sul mercato home video cercando di cavalcare l'onda di altri che hanno Riscosso un notevole successo, i progetti di Fragasso in quest'ambito vengono tutti girati in America con attori americani, eccetto Monster Dog il Signore dei Cani. Realizzato in Spagna Madrid con protagonista il cantante Alice Cooper, ma sempre prodotto e finanziato da Edward Sarlui per il mercato americano. In seguito Fragasso si dedica al genere Trille, drammatico, di denuncia e poliziesco, teste rassate, 1993, vince il premio della giuria giovane e del pubblico al Festival del Cinema Italiano di Villerapte. Palermo Milano Sorandata, 1995, partecipa alla 52esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nella sezione Panorama Italiano, ed è in concorso al Festival d'Avventura e Azione di Valassienne, dove vince il premio RTL2, candidato a 5 Davide di Donatello. Ne ottiene due, fonico di presa diretta, miglior produttore, concorso di colpa vince al Bustor Sizio Film e Festival i premi per miglior film, colonna sonora, fotografia, sceneggiatura nel 2004, tutti questi film, come anche Milano Palermo, Il Ritorno, con Giancarlo Giannini e Raul Bova, sono sceneggiati da Rossella Drudi. Nel 2013 fa un piccolo cameo come attore nel film Roma criminale dell'amico stuntman Gianluca, Petrazzi.